Non capisco che cosa succede, è che cosa è vero, non si crede. Non si crede, non si crede. Ha, 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 ha. E' nata un creatore, è nata lì, e amiamo di ammaccire, se signor lo chiamiamo. Si signor lo chiamiamoci, ammaccire. Se vota gire, se, se gire vota, se. Cato chiamiamoci al cuore, cato chiamiamo peppo gire. Il mio fatto è nira, 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 gomma, si. Cato chiamiamoci, ammaccite a tealle, mi avre fa sono directions. Anche non ci vediamo in sede, non vi interessa di삿are a tealle. Per essere risa, ci vediamo qui. So con Danekumara, qui sta a fare Si fate non so rara, se remeran a mia E non da pasta del sur, anna guardada E a femenare nasta, solta pota presion E solta pota presion Senna guardada, se, 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 anna presion Se, 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 se... Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.